Buongiorno ragazzi, aspettate che prendo una cosa dalla vasca, ma sapete che cos'è? E' una 100 euro, 100 euro, io con questa 100 euro in mano vi vorrei fare una domanda, secondo voi la devo risparmiare o la devo spendere? Rispondete a questa domanda, vorrei sapere da voi una risposta, risposta segna mi raccomando, io ho sempre pensato di risparmiarla, però se c'è la possibilità di spenderla la vorrei spendere bene. E come secondo voi la posso spendere? Non ho mai fatto video con un soldo in mano, beh sono tanti, 100 euro. Che cosa ne posso fare di questa 100 euro? La devo spendere o la devo risparmiare? Io ho sempre pensato di risparmiarla, però l'ho già detto e quindi non lo ripeto di nuovo, ma non dicendo la stessa cosa di prima. Secondo voi la risparmio o la spendo? Io ho sempre pensato a quanto avrei avuto una 100 euro di guardarla. di odonarla e di fare tante belle cose come una 100 euro a carezzarla, perché chi ha i soldi non li deve spendere perché li deve risparmiare. Io penso che questa 100 euro è meglio per me che la risparmio.